Spero che stia riprendendo. Ciao Royce, ciao tesorino della mamma. Ho chiesto io che tu non potessi venire a trovarmi all'ospedale e non perché non volessi vederti, ma so anche che non ti va che le persone decidano per te quello che devi fare o non fare, però sai volevo lasciarti dei bei ricordi, dei bei ricordi passati insieme, non volevo salutarti in ospedale. Il colonnello dice che me la caverò, lui lo spera. Mi ha messo nella borsa la mia camice da latte preferita, è un maglione. Pensa beh, io neanche lo sapevo che mi sapesse quale fosse la mia camice da latte preferita. Mi stupisce sempre tuo papà. Beh, sarà un ottimo padre con te, farà un ottimo lavoro, ti crescerà abile. Però so anche che le ragazze, soprattutto della tua età, a un certo punto hanno bisogno della loro mamma. E' per questo che io sono qui ora. Sono qui perché vorrei che tu guardassi queste cassette. Mi raccomando, guardale e pensa. pensa a me. Pensami perché so che un giorno incontrerai una persona specialissima, speciale, troppo speciale nella tua vita. E questa persona, conoscendoti, sarà alto, moro, affascinante, proprio come tuo padre. Però non potrai amarlo veramente se penserai che ti sia mancato l'amore di una persona cara, speciale, come può essere la tua mamma, come posso essere io. Ecco, non pensare questo. Devi essere forte, devi andare avanti. La cosa bella di essere mamma è che non finisce mai. Negli anni, ma neanche con la morte. Io sarò sempre la tua mamma. E ti vorrò fermarti tanto bene. Queste cassette sono proprio per i momenti che vorrei essere lì con te. E non posso. Però sai che ti voglio bene e questo non dimenticarlo mai. Ciao Lois! Cari amici, sono qui per presentarvi un prodotto che non può mancare nella vostra vita. Visintilmani. Un gel igienizzante per tutta la famiglia. Agisce rapidamente e si usa senza acqua. Non aspettate oltre. Ordinate tre flaconi di Visintilmani e riceverete in omaggio la versione mini. Piccola, comoda e pratica da portare sempre con voi. Visintilmani, il vostro igienizzante mani. Una mia amica mi ha consigliato questo discount perché nella mia famiglia cerco sempre prodotti gustosi e sani. La tua amica ha proprio ragione. Entriamo! Ok, entriamo! Ciao! Grazie a tutti.